Ciao ragazzi, sono Riccardo e oggi siamo sulla S Crescent nel cuore della Palma a Dubai per mostrarvi una bellissima penthouse in questo building nuovo di zecca ed esclusivo. Seguitemi e vi mostro tutto. E adesso vi mostro la sala fitness. Guardate questa palestra. E guardate che panorama avete durante l'allenamento. Il Bujala Rap. Questa piscina è una delle più esclusive che io abbia mai visto. Ed è tutta a disposizione dei residenti. Il vostro accesso alla penthouse è con un ascensore privato e guardate l'ingresso alla vostra casa. Quando andate dentro vi accoglierà questo stupendo soggiorno. Guardate che vista avete da laverare. Guardate la porta che collega la cucina all'esterno. Vi mostro. E nei mesi più freschi dell'anno potete pranzare o cenare con i vostri amici in questa stupenda veranda con la vista del Bujala Rap. Qui siamo nella zona letto. Ci sono in tutto quattro camere da letto e vi mostrerò adesso la master bedroom. Cioè la camera principale. Seguitemi. Ingresso della camera da letto principale. Questo è il guardaroba. Tutto Rimadesio. C'è tantissimo spazio in questo guardaroba di Rimadesio. Dalla master bedroom avete una vista diversa rispetto al soggiorno. Perché vedete sia il Royal Atlantis che dall'altro lato la ruota e Panjumei. E il vostro bagno privato all'interno di questa camera da letto è eccezionale con vasca e doccia. Questa stupenda penthouse è in vendita adesso. Non dimenticate di seguirmi sui social media. E ci vediamo alla prossima penthouse. Ciao! Ciao!